A causa della pandemia del Covid-19, la nostra classe è stata suddivisa in tre gruppi. Noi facendo parte del terzo gruppo abbiamo analizzato le stories e il mondo dei social. Per il nostro lavoro di cittadinanza digitale abbiamo analizzato il mondo dei social e le stories. Il mondo dei social è inteso come una realtà smaterializzata, dove ognuno di noi può crearsi una nuova personalità oppure mantenere la propria. È stato molto interessante analizzare come il mondo dei social abbia avuto un'influenza sul mondo dei lavoratori. Ci siamo mossi attraverso interviste tra commercianti e persone e abbiamo intervistato anche Niccolò Calimani e Valentina Vigato. Valentina Vigato è la proprietaria della pagina Instagram L'Angolo del Focolare, con 30.000 follower. Ella pubblica foto riguardanti la cura della casa e della famiglia, pubblicando contenuti ben pensati e con toni caldi. Niccolò Calimani è un agente di commercio e un social strategist e si occupa di far firmare contratti a clienti e di trovare strategie di marketing vincenti. Il nostro obiettivo è quello di focalizzarci sui lati positivi dei social, come l'informazione accessibile a chiunque, parlare con tutti. I social sono visti in modo negativo per via del cyberbullismo, dell'attenzione eccessivo verso l'aspetto fisico e dalla dipendenza dai social stessi. Il nostro obiettivo è quello di focalizzarci sui lati positivi. Sono Valentina Vigato, fondatrice di L'Angolo del Focolare, canale YouTube, sito internet, pagina Facebook, Instagram e così via. La parte più importante appunto della mia attività è fare corsi online, infatti ho fondato l'Accademia dell'Arte Domestica. Parlando delle stories, ti voglio chiedere come le utilizzi principalmente? I miei post tendono ad essere talmente perfetti, talmente belli, che la gente ci si relaziona poco, ok? Ti ci ritrovi poco. Quindi quella cosa io vorrei cambiarla. Mentre le stories per me sono più immediate perché è come se ci facessimo una chiacchierata io e te. Ti faccio vedere proprio le difficoltà della mia quotidianità. Cerco di mostrarmi anche struccata, senza filtri, eccetera. Proprio nell'intento della condivisione. Cambia tantissimo secondo me, sì. Ogni quanto le pubblichi, le stories. Quotidianamente, più volte al giorno. Usi le stories e i post per cose diverse, tipo se vuoi pubblicizzare un prodotto. I post me li chiedono poco. Stanno tendendo anche a chiedermi sempre meno i video YouTube perché preferiscono le stories. I clienti sponsorizzati, ok? Se ti devo promuovere un prodotto. Qual è il lasso che trovi più negativo del tuo lavoro? Il costante giudizio e confronto con le persone. Però penso di aver realizzato il mio sogno di bambina. Io nasco come consulente per le aziende in generale. Quindi aiuto le aziende a posizionarsi nel modo corretto nel mondo del web e a trovare soluzioni che portino nuovi clienti fondamentalmente. Inizialmente hai trovato delle difficoltà soprattutto ad inserirti in questo... Beh sì, sì perché io sono una persona che è abituata a lavorare in presenza con il cliente mentre qua si tratta di un mondo che è basato su ciò che posti, ciò che fai vedere, la tua presenza sul web e non più la presenza fisica dal cliente o cose del genere. Parlando delle stories su qualsiasi social, ormai sono wupe, come le utilizzi e il perché? E voglio sapere anche se preferisci i post o le stories appunto. Allora diciamo che le stories sono diventate, secondo me, la realtà vera della persona che sta dietro ai social. Le utilizzo spesso come rimbalzo del post? In generale che cosa pensi dei social? Allora i social sono un veicolo per ottenere un risultato, sono il veicolo maggiore in questo momento e le aziende l'hanno un po' capito in ritardo, soprattutto in Italia, però non devono essere l'unico strumento. I social sono sempre in continuo a modificarsi, quindi questo ti ha portato anche a un continuo formare te stesso? Assolutamente, è necessario per forza. La cosa brutta, tra virgolette, è che le modifiche agli algoritmi che decidono come funzionano i social non te li dice nessuno e quindi bisogna, come solito, tornare alla qualità dei contenuti piuttosto che alle robe pirotecniche che poi però non portano a nulla. A seguito della pandemia, del lockdown, hai trovato più difficoltà a interagire con il pubblico o a creartene una nuova? Secondo me sì, si sono buttati tutti sui social, tutti sul mondo del web, anche gente che non lo faceva prima improvvisamente si è buttata sopra, per cui c'è un sovraccarico di traffico e quindi sì, è diventato più complesso sicuramente. Di nuovo, secondo me, serve ancora più qualità. Dopo la pandemia hai cambiato qualcosa della tua strategia per attirare più persone o hai lasciato comunque la tua? Forse le persone hanno capito ancora di più l'importanza dei social. La proposizione unica di vendita deve essere ancora più forte perché se prima eravamo in 20 ad essere sui social adesso siamo in 500, ecco capito. Qualche lato negativo dei social, del tuo lavoro in generale? La mancanza di contatto, io sono abituato a stare a contatto con le persone molto di più, che mi piace molto di più. La mancanza di professionalità, nel senso che sui social tutti pensano di poter lavorare come lavora un professionista, ma non è così. Lavorando con i social, dato che creano comunque una certa dipendenza, hai notato che di essere diventato dipendente dai social oppure no? Beh, un pochino, secondo me lo siamo un po' tutti ormai. È veramente difficile non mettere la stories, non mettere la cosa. L'idea è quella di far vedere e non abbiamo ancora fatto nulla perché in realtà non c'è ancora quello che vogliamo far vedere e sono tutti attaccati con la faccia sul cellulare. Che cosa hai trovato di così tanto entusiasmante nei social da dirti? Ok, lo faccio subito. Beh, a me piace sapere un sacco di cose. I social sono un mondo pieno di sorprese tutti i giorni che permettono di fare cose tutti i giorni, strane, nuove, diverse. E quindi mi piace ottenere un risultato, vedere le cose. Quindi diciamo che è questo. Quello che secondo me ha fatto male un po' a tutti è stata l'incertezza. Riaprire, richiudere, riaprire, richiudere e ha creato tantissima confusione. C'è la biglietteria, non è ancora riaperta e niente, stiamo aspettando che arrivi un po' di gente per poter ripartire. Non c'è tanto movimento, via. Pensi di sì? Spero di sì. Spero di sì. Devono esserci, per forza. Quindi sì. Eh sì, meglio torna come normale, senza mascherina, tipo normale come prima. Mi piace quello. Solitaria. No, c'è la polizia che mi dà noia, mette la mascherina. La mia interazione con le altre persone è diminuita. Perché ora con tutte queste cose qui sono anche un pochetto più paurosa. Molto complicata e difficile e purtroppo non vediamo ancora la fine. Speriamo che sia vicina, ma speriamo che settembre-ottobre sia tutto calmo. Ma non ci giurerei. E sarebbe un bel problema perché già più di due anni e mezzo così è una situazione molto complicata.